Dopo il lungo viaggio attraverso l'Europa è iniziata sotto un'area gelida la visita degli studenti toscani del treno della memoria al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Gli studenti sono nel posto dove un milione di esseri umani, ebrei, oppositori politici, romi, internati militari italiani e omosessuali hanno visto e toccato l'inferno. Ad accompagnarli ci sono le sorelle Bucci, Andrea e Tatiana, sopravvissute da bambine ad Auschwitz e che da anni accompagnano in questo viaggio i ragazzi delle scuole, rievocando le fasi della deportazione e dello sterminio. La forza che mi dà di continuare anche quando sono stanca è proprio per non deludere i ragazzi che hanno comunque fatto un viaggio faticoso, anche se dovesse fare bel tempo e caldo, resta comunque un viaggio psicologicamente faticoso e allora anch'io faccio lo sforzo di continuare a parlare con loro. Poi il lungo corteo al monumento internazionale alle vittime del nazifascismo per la commemorazione, uno dei momenti più toccanti. Qui gli studenti toscani hanno letto il nome di una persona deportata ad Auschwitz deceduta o in pochi casi sopravvissuta. Poi il saluto della vicepresidente della regione Monica Barni, le parole di Ugo Caffatz, le preghiere. Quest'anno sono 11 volte che la regione toscana porta i ragazzi qua a Auschwitz e a Birkenau e lo facciamo proprio perché vogliamo creare in loro la consapevolezza, la consapevolezza di quello che è stato. E lo vogliamo fare perché siano in grado di affrontare il presente. Il treno della memoria è organizzato dalla regione toscana nell'ambito della giornata della memoria delle vittime della Shoah che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 27 gennaio.